Ciao amici, come state? Spero tutto bene! Oggi finalmente torniamo su Mr.Mitt2, nel secondo capitolo del nostro caro macellaio! Oggi faremo la vera fuga, la vera fuga epica attraverso la porta principale! Ma non solo, perché oggi finalmente scopriremo anche chi è quel personaggio misterioso che compare a inizio video, quello che ci offre Bloody Mary! Quindi andiamo subito in partita, andiamo subito a divertirci con il nostro caro macellaio! Ma come sempre lasciate così tantissimi like, lasciate i più like possibili per supportare la serie! Se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina! Ma adesso direi di partire, cominciamo! Andiamo subito in partita, tocchiamo gioca, andiamo a fare fuga dalla porta principale! Questa volta il video sarà un po' più lungo delle altre volte, quindi mi raccomando restate dintorizzati per non perdervi tutto quanto! Tocchiamo gioca, ecco qua il filmato iniziale che direi che possiamo anche schippare, visto che l'abbiamo visto ormai chissà quante volte! Andiamo subito in partita, anche perché il video sarà bello lungo, quindi dovremmo anche tagliare le parti, diciamo, che ormai conosciamo bene! State tutti bene? Oh, non posso crederci, vi siete trasformati tutti in maiali, tutti quanti in maialini! Da notare che possiamo pure interagire con alcuni di loro, come ad esempio con Susan, la madre di Rebecca, infatti il personaggio che le guidiamo è Rebecca! La figlia di Mr. Meat! Qui possiamo interagire con Amelia! Povera Amelia, un po' disperata tutta così! Va bene! Apriamo qui la porticina e così Anthony e Dr. White se ne escono fuori! Però voglio far vedere una cosa di Dr. White, va! Perché noi possiamo interagire con lui! Guardate! Ci parla! Dr. White! Hello! Rebecca! Sta chiedendo aiuto, sta dicendo save me! Save me! Va bene, dai, allora, andiamo subito qua a fare le cose! Andiamo innanzitutto a prendere la carta della guardia che sta qui sopra! Caro michetto guardiano, dammi subito il tuo tesserino, va! Non scappartene via! Dove vai? Dove pensi di andare? Va! E usalo però sto teaser, Rebecca! Veloce! Che ho bisogno di sto coso, altrimenti non posso proseguire qui! Prendiamo subito qua il badge! Allora, sarà molto difficile questa volta rispetto alla fuga precedente perché innanzitutto ci sarà anche il maiale! Il maiale che adesso sappiamo che si chiama 13! Ma perché 13? Ma dategli un altro nome! E poi ci sono anche tante altre cose da fare! Allora, dobbiamo adesso innanzitutto raggiungere il guardiano con la speranza di non beccarci Mr. Meat! Mr. Meat! Non sei di qua, vero? No, qui è chiuso! Via, via, via! Devo trovare un modo per salire dalle scale, devo andare nei piani superiori però non trovo qui le scale e devo imparare ancora bene la mappa! Non è facile, è molto grande sta zona, è veramente... Molto, molto grande! Ho sentito dei maiali che non mi sono piaciuti per nulla! Ciao maialino! Allora, forse dobbiamo salire ancora di più? Mi sono già perso! Mi sono perso qua per il percorso! Mr. Meat! Non sei di qua, vero? Via, via, via! Andiamo, andiamo, andiamo! Ok, il macellaio non è da queste parti, meno male! Cioè, guardate, mi sono pure perso, mi sono perso! Devo ancora conoscere bene questa mappa! È grande da scoprire, quindi vuol dire che ci sono tante cose che dobbiamo ancora vedere! E vai! Abbiamo raggiunto qua il poliziotto! Lui è Andrew! Il poliziotto che aveva arrestato Mr. Meat! Ciao, sono Andrew! Il poliziotto che ha aiutato a catturare Mr. Meat qualche anno fa! Non so cosa sta succedendo, Ma sembra che qui ci sia un gran caos! E solo quello c'è! Ho un'idea! Possiamo andare nella sala di controllo, nella reception, disattivare il blocco di emergenza dalla prigione! L'idea è mia! Quindi sta a te a riparare tutto! Preparare tutto! Ve lo dire... Ma cosa? Ma sei te il poliziotto? E io devo fare le cose! Ma che poliziotto è questo? Che io devo mettermi qua ad aggiustare tutto quanto! Ma dai! Ma non ci posso credere che io devo fare qui le cose! Vabbè allora sto coso mi sembra che vada messo qua dentro così lo mettiamo già di qua! Perfetto! Tiriamo qua la manovella! Vai! E adesso dobbiamo andare a trovare degli oggettini! Innanzitutto dobbiamo trovare mi sembra una cosa di cemento che sta fuori in cortile! Ma facciamo attenzione a non farci beccare da Mr. Mittino! Ma c'è l'aio! Dove sei? Non sei di qua vero? Non sei da queste parti! Allora dovevo trovare sto busta di cemento! Che si trova? Non ne ho idea! Perché può essere sparsa in tante parti della mappa! Forse è di qua! Ok! Cemento in polvere! Adesso dobbiamo raggiungere un'altra parte! Che mi sembra che si trovi di qua! Vediamo se ho indovinato la strada! Io mi sono perso! Ve lo dico già! Mi sono ufficialmente perso! È enorme sto posto! È veramente enorme! Mr. Mitt? Posso andare di qua? Speriamo di sì! Ok! Perfetto! Dobbiamo salire di sopra! Andiamo qua! Nei piani superiori! Si dovrebbe essere sbloccata una porta che nella fuga precedente non c'era! Dobbiamo andare di qua! Perfetto! Dobbiamo adesso inserire qua un codice con la speranza di indovinarlo! Vai! Mettevo il cemento qui sopra e il codice dovrebbe essere uno di questi! Cos'è? Due! Vediamo se è questo qua! Uno! Due! E tre! Vediamo! 250! Vediamo se è questo qua! Sì! Indovinato! Vai! E adesso dobbiamo andare a raccattare delle cesoie! Cosa? Ma che sta facendo questo? Ma sta giocando al solitario! Cioè questa qua è diventata un maiale! Non si è accorta di nulla! Come se nulla fosse! Vabbè! E non importa! Andiamo a cercare queste cesoie! Va che potrebbero trovarsi in... Non ne ho idea! So soltanto che ho sentito un rumore mister mittesco! Che non è che mi sia piaciuto più di tanto! Allora mi sembra di averle trovate qua! Mentre provavo il gioco per i fatti miei! Se no male che vado abbiamo qua gli indizi! No! Qua non ci stanno cesoie! Dove sono finite? Mister mitt! Dov'è? Ho sentito la sua brutta risata! Che non mi è piaciuta per nulla! Ok no! Mi dice che le cesoie stanno di qua! Prendi le forbici! Ma io non le trovo! Dove stanno queste forbici? Ah! Da quest'altro lato! Vabbè! E cerchiamole! Ma io veramente... Ah! Ma stavano proprio qui vicino! Ma come qui vicino? Ma dai! Vabbè! E niente! Dobbiamo tagliarli qua! Rompiamo sta serratura! Vediamo cosa c'è qua! Cos'è sta roba? Pass della stanza! E fammi vedere qua! Sala di controllo! Dove stiamo sta sala di controllo? So soltanto che mi ho fatto rumore! Quindi devo svignarmela subito! Via! 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 Prima che venga quel macellare! Io! Era qui vicino! Ma lo sono trovato di qua! Ma dai! Allora! Mettevo questo indizio qua! Perché io veramente... Ah! Forse ho capito qua! Aspettate la sala di controllo! È quella che tecnicamente dovremmo entrare per poi... Vabbè! Adesso ve la faccio vedere eh! Tanto è qui sotto, è qui vicino! Dobbiamo soltanto sperare di non beccarci il macellaio! Ok! Se n'è andato via! La sala di controllo dovrebbe essere questa! Mettevo qua dentro! Vai! Sì sì! E questa qua ce l'abbiamo fatta! Adesso dobbiamo recuperare due chiavi! Una dobbiamo inserirla da queste parti qua dentro! E l'altra dobbiamo metterla di qua! Sono due le chiavi! E non sono facili da trovare! Perché dobbiamo risolvere degli enigmi! Innanzitutto dobbiamo trovare la chiave alfa! Quindi abbiamo bisogno della chiave quella per... Cos'è? Non lo so! Io sto seguendo di qua la scia! Perché comunque, come vi dicevo, sta mappa è enorme! È veramente grande! Meno male che ci sono questi indizi! Così almeno sappiamo dove dobbiamo andare! Ok! Apri qua! Vediamo cosa... Ah! Ecco qua abbiamo trovato sta chiave! Chiave del camion! No! Voi sapete bene che cosa sta per succedere adesso! Stiamo per spostare il camion! E io... Questo me lo prendo! E eh eh! Via! No! Ma non ha... Scusa! Ma funziona sto coso! Ma non fa niente! Ma è ancora vivo! Io... Vabbè, nel dubbio... Non lo so! Prendiamo sta chiave, va! Andiamoci subito via via via! Mamma mia! Mamma mia! Non ci posso credere! Ma sta arma non serve quasi a nulla! Lo mette fuori uso per pochi secondi! Ma che roba è? Cioè non posso neanche mettere poi fuori uso il maiale! Che tanto adesso uscirà fuori! Cioè adesso non soltanto Mr. Meat! Mi troverò il maiale mutante che mi inseguirà! Che già era un fastidio su Mr. Meat 1! Figuriamoci qua! Se sapessi guidare potrei fuggire con questa cosa! Beh! Posso provarci! Vai Rebecca! Prova a guidare! Ma perché? Ma... Cioè ma dico io! È andata a liberare il maiale! No! Ehm... Sì! Mi scriverò a scuola guida! Mi so che ne avrei bisogno della scuola guida! Soltanto che adesso è liberato qua sto maiale! E sarà un serio problema liberarcene! Ok! Adesso dobbiamo cercare qua la chiave alfa! Dobbiamo andare nel seminterrato! Mi sembra che si trovi da questo parte! Che tanto vabbè c'è la scia che ci sta dicendo dove andare! Dobbiamo andare qui sotto! Dobbiamo fare molta attenzione! Perché se Mr. Meat dobbiamo scendere di qua! E ci troverebbe! Ok! Chiave arroginita! Dobbiamo portarla dentro il magazzino dove si trovava il maialino! Quindi andiamo di qua! No! Ok! C'è Mr. Meat! L'avete visto? Avete visto il macellaio? E il magazzino si trova proprio dove sta andando Mr. Meat! Fra tutti i posti che c'erano! Io tra l'altro qua non sono libero di muovermi! Perché il maiale potrebbe trovarsi da queste parti! Il che non è una cosa molto molto buona! Quindi macellaio! Vattene pure via via via! E io lo sapevo! Lo sapevo! Lasciami stare macellaio! Aiutatemi via via via! Andiamo 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 di qua! Perfetto! E possiamo subito raggiungere qua il magazzino! Sì! Vai! Abbiamo trovato un oggetto su tre! Adesso dobbiamo prendere la chiave alfa! Il taglierino che si trova! Non lo so! Mr. Meat! Posso andare di qua? Ok! Io sto seguendo la scia! Andiamo andiamo andiamo! No no no! No no no! Mezzo a sti maiali! Di qua devono andare a mettere proprio qua sto taglierino! Tra tutti i posti che... Scusa eh! Ma dove si trova? Ma dov'è? Ah! Era nascosto! Ma ha nascosto veramente bene! Via 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 via! Tanto adesso fra poco arriverà il macellaio! Perché sti maiali fanno rumore! Dobbiamo pure fare attenzione ad una cosa che non vi ho detto prima! In questo gioco c'è il danno da caduta! Quindi mi raccomando cercate di non scendere d'altezze molto alte! Altrimenti rischiate di farvi... Male! Ok! Andiamo di qua! Perfetto! E di qua macellaio! Ok! Per fortuna il maiale 13 non è qui nei paraggi! Meno male perché non mi va di mettermi qua a fare rodeo con maiale! Ok! Adesso ultimo oggetto! Dobbiamo prendere... Ah! Il cd! Il cd sa dove si trova! Quindi vabbè non c'è neanche bisogno del radar! So dove dobbiamo andare! Dobbiamo andare dove... Dobbiamo andare da nessuna parte! Ma dai macellaio! Ehi che roba! Non posso metterti fuori uso con le trappole come facevo con Rod! No eh! Erano tanto comode le trappole di ice cream! Qui invece non ci stanno! Via via via! Andiamo andiamo andiamo! Di corsa! Facciamo il giro in questo modo così lui non ci vedrà! Ci perderà subito di vista! Perfetto! Andiamo subito di sopra! Ciao maialini cari! E mi spiace che siete diventati così! Prima o poi vi salverò eh! Vi prometto che vi salverò! Magari in un prossimo aggiornamento! Andiamo subito qua! Come potete ben vedere comunque la cosa è molto molto lunga! Dov'è? Ma stava di qua il cd! Io mi ricordavo che il cd ce l'aveva la segretaria! Che fine avrà fatto! Ma dai! Eh io veramente mi ricordo che ce l'avesse la segretaria in tutte le partite che ho fatto! A quanto pare non è sempre così! Quindi... Quindi niente via! Ah si trova di qua! Era più vicino di quello che io pensassi allora! Eccolo qua! Cdrom è trovato! E così abbiamo fatto la prima chiave per Mr. Meat 2! Come porta chiusa! Ma come porta chiusa! Ma dai! Allora andiamo subito di qua! Allora usciamo da questo lato con la speranza che Mr. Meat... E infatti... E mi sa che forse era meglio trovarmi Mr. Meat! Forse! Sì! Via! Via! Lasciami stare! Aiutatemi! No! Sto coso è feroce! È feroce sto maiale! E vi dicevo era meglio trovarmi Mr. Meat che sto maialino! Non è per nulla simpatico il maiale 13! No! Aiuto! A mettermi a far rodeo qua non ci voleva proprio! Ok! Però se ho riuscito a fare la chiave! Vai! Adesso questa qua dobbiamo portarla dentro la reception! No! Aiuto! Via! 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 No! No! Non sono di qua! Non sono di qua! Aiuto! Aiuto! C'è un maiale cattivo che mi sta inseguendo! Lasciami stare! Ok! Ok! Di qua non dovrebbe passare! E mi sa che invece sta passando di qua! Ok! Meno male! Non è venuto da questo lato! Perfetto! Perfetto! Metti qua dentro la porta! Sì! Ok! Le possiamo recuperare adesso un'altra chiave! Le gioco al documento! Un documento confidenziale! Il testimone numero 4 è descritto cos'è successo il giorno prima dell'espulsione della moglie della figlia dalla casa dell'imputato! Il mio amico era totalmente innamorato di quella donna! Indica Susan Miller! Quel giorno mi disse che stava andando a casa sua per la prima volta! Anche se la frequentava da molti anni! Non so cos'è successo! Ma non l'ho più rivisto! Quindi allora a quanto pare la moglie di Mr. Meat aveva una frequentazione con l'amico di Mr. Meat! Cioè veramente assurda sta cosa! E' altro che beautiful! Queste proprio tradimenti sono! Ok! Adesso dobbiamo cercare di portare sta chiave! Il maiale è qui vicino comunque! Lo sento! Lo sento! Sento anche altri maiali comunque! Quindi! Ok! E' di qua! Via! 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 Perfetto! Chiudi sta porta! Mettiamo subito qua questa chiave! La chiave numero 1 è stata fatta! Dobbiamo trovare adesso altre due chiavi! Dobbiamo trovare adesso l'ultima chiave da inserire qua dentro! Dopodiché possiamo fare avvenire qua il poliziotto con la speranza che Mr. Meat non ci vada! Ma qui c'è un documento! Ciao mamma! Ti scrivo dal lavoro! In questa prigione va tutta la grande! Valeva la pena studiare per l'esame! Sono solo da una settimana e so già come funziona tutto! Il magazzino degli effetti personali dei detenuti è poco sorvegliato! E sono sicuro che riuscirò a mandarti qualcosa di carino! Per darti un'idea di come lavora la gente qui! Domani è aggiornata Bloody Mary e musica latina dalla prigione! Ah! Aspettate! Sono sicuro che ci divertiremo! Vabbè! E si divertiranno qua! Non importa! Adesso dovevo trovare le ultime cose! Questo devo prendere qua! Prendi le lenzuola a righe tagliando il lucchetto! Andiamo a cercare queste... Lenzuola! Arriga! Ma sto maiele si è proprio un... Possessato lì davanti, no? È rimasto lì bloccato! E vattene via da sto corridoio! Fra tutti i corridoi che ci sono! Proprio qua! Ciao Mr. Meat! Via, 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 via! Mamma mia, mamma mia! Non ci valeva sto macellaio! Preferivo i mini rod da sto punto! Erano molto meglio i mini rod che sto maiale mutante! No, perché mi sa che il maiale mutante si comporta come su Mr. Meat 1! Che quando ci prende ci mette... Eh! Fuori Udo! Ok! Noi si trovano queste lenzuola qua dentro! E ho bisogno delle cesoie! Ma dai! Ma ditemelo prima che avevo bisogno di queste cesoie! Che me le andavo a prendere! Ma dove stanno queste cesoie? Dove le lasciate? Devo andare di qua mi sa! Allora prendiamo quale... Sì, lo droppate qua sotto! Se no non si può aprire quel coso! E non posso prendere le lenzuola! Guarda, preferisco di più questi maiali guardiani che quel maiale 13! Veramente incattivito! Ma chi è quel maiale? Ma come ci è diventato cattivo in quel modo? Ah, io veramente senza parole sono rimasto! Perfetto! Così possiamo prendere! Da questo lato! Come serve? E ce l'ho qua in mano lo strumento! Vedi di farmi prendere qua queste lenzuola! Su! Ok! No, 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 no! Via, via, via! Mr. Mitt mi sta inseguendo! È veramente lungo sto gioco! Ve lo dicevo! È molto, molto lungo! Quindi comunque ci vuole un po' di tempo! Un po' di pazienza! Vabbè, se hai giocato in modalità fantasma si fa subito! Ma in modalità comunque con Mr. Mitt che ci rincorre non è per nulla facile! Ok, tiriamo qua la manovella! Perfetto! Tiriamola per bene! E adesso piazziamo qua le lenzuola! Dovevo trovare adesso una seconda lenzuola! Che si trova? Non so dove! Quindi macellaio! Fammi camminare! Fammi scendere di qua! Perfetto! Ok! No, 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 no! Lì dietro c'è il magliele mutante! Meglio evitarlo quello! Meglio evitarlo! Come Mr. Mitt è meglio evitare tutti quanti! Preferisco di più sti magliali lì sotto, sto punto! Che il magliale quello là! Ma cosa? Ma come ci è arrivato sto magliale di qua? Ma che ci fa quel magliale prigioniero? Prendi questa lenzuola, va! Ok! Andiamocene subito! Via, 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 via! Ah, dobbiamo scendere di qua! No, io scendo dall'altro lato! Meglio dall'altro lato! No! Ma dai! Ma non mi stavo buttando! Ma come mai mi è andato a cadere il personaggio? Non mi ero buttato! Vi giuro! Io stavo... Vabbè! Lasciamo perdere! Lasciamo perdere! Ma che roba! Allora, vediamo cosa devo fare! Fuggi dalla finestra! Qua! Devo prendere sto coso! Ah, ho capito! Devo lanciarlo qua! Sì! Perfetto! Andiamo a recuperare subito ste lenzuola, va! Che mi sono cadute prima! Proprio qua in mezzo devono cadermi ste lenzuola! Proprio qua! Io per evitare sti magliali sono andato a cadere! Ci sono caduto veramente molto, molto, molto male! No! Mi sono sentito sparare! Forse Mr. Meat mi ha trovato! Mi sta già inseguendo, Mr. Meat! Ma non c'è la musica di inseguimento! Andiamo a mettere subito quest'altro paio di lenzuola! Dai che tecnicamente siamo già verso la seconda metà del video! Quindi comunque dovremmo farcela! Ultime lenzuola! Dove si trova? Ma perché devo mettermi a far ste lenzuola? Ma cosa devo fare qua? Il bucato! Ma perché? Panino tube, passione e bucato! Andiamo a raccogliere lenzuola evitando magliali! Insomma, cos'è? Una nuova challenge! Evita i magliali per poter fare tutto quanto! Ok! Raccogli! Perfetto! E adesso seguiamo qua di nuovo la scia! Che ci porterà verso la retta via! Saliamo di sopra! Piano superiore! Questo poliziotto che non fa niente! Ma fai qualcosa poliziotto! Fai fare a me! Che non sono neanche un poliziotto! Ma dai! Ma che roba! Vabbè! E scendiamo allora di qua! Andiamo qua lungo questa corda! Andiamo! Oh mamma mia! Avete visto dove si trova? L'avete visto? Adesso entriamo qua dentro! Qua dentro dovremmo trovare un oggetto che ci potrebbe servire! Quindi entro subito qui dalla finestra! Perfetto! Vediamo qua che cosa c'è! Uh! C'è un foglietto che dice Documento confidenziale! Mr. Meat! Senza dubbio colpevole! Sono state trovate le prove sufficienti per concludere che stava facendo esperimenti sugli esseri umani! Ha anche confermato di aver scoperto un composto chimico speciale con il suo gruppo di scienziati! E' stato dimostrato che hanno trasformato soggetti umani in maiali grotteschi! Molti di loro sono finiti per essere venduti come carne di maiale speciale dalla sua azienda! E' Mr. Meat! Ma ste cose che mi combini! Ma cosa mi combini? Adesso dove si trova l'oggetto? Eccola qua! La chiave! Chiave di sicurezza beta! Questa qua dovrebbe essere la seconda chiave che ci serve per poter sbloccare la porta principale! Fin qua può sembrare tutto facile! Però adesso c'è un problema! Noi dovremmo fra poco scortare il poliziotto di qua! E' il poliziotto un gran fifone! Cioè ma dai! Ok! Adesso dobbiamo andare a raggiungere Andrew e convincerlo a farlo venire! Che non è facile! E' un fifone quel coso! E se ne scappa subito via! Quindi dobbiamo fare molta 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 attenzione! Dobbiamo salire nelle scale! Nei piani superiori! Perfetto! Ci abbiamo fatto! Ci abbiamo fatto! No! Ho sbagliato a lato! Ho sbagliato a lato! Quindi Andrew dove sei? Dove sei? Ma perché? Ma dai! E' qua! Ma pure il giro devo fare! Pure il giro! Via via via! Sali sali sali! Eh signore Andrew! Vieni qua! E' tutto pronto! Andiamo! Muoviti prima che venga quel maiale! Veloce! Veloce! Su! Adesso qua sarò molto concentrato! Ve lo dico già! Perché la parte non è per nulla facile! Non è facile! Anche perché Andrew se ne scappa subito via! Vieni! Mister Milton non sta di qua! Vieni qua! Veloce! 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 Muoviti! 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 I maiali di là! Su Andrew però anche te! Datti una mossa! E poi non ti lamentare se Mister Milton ti viene a prendere! Non ti lamentare! Vieni! 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 Perfetto! Ah ce l'abbiamo fatta! Non so neanche io come è stato possibile! Ce l'abbiamo fatta! Lo riuscite a portare Andrew di qua! Perfetto! E ora che dobbiamo fare? Fantastico! Ora dobbiamo girare le chiave allo stesso momento! Così potrai premere il pulsante! Ok! Proviamoci! Vediamo! Sì! Bene! Non resta che premere il pulsante verde! Ce l'abbiamo fatta! Che ha la sua grande fuga epica dalla porta principale! Sì! Vai! Ok! Sembra che abbia funzionato! Sì! Andiamoci qui! In fretta! Via! Versa la via d'uscita! Versa la libertà! Guardate! Siamo scappati dalla porta principale! È stato molto più difficile della fuga attraverso il tunnel! Ma molto più difficile! Via! Il poliziotto che ha preso la macchina! Chiamate tutte le unità! Chiamate tutte le unità! Mamma mia! Guardate! Mr. Meat è lì! Ecco la sua solita lingua anche dalla finestra! Mamma mia! Ovviamente questa qua era una delle fughe che ci sono in questo gioco! Come ben sappiamo infatti! La storia prosegue! Anche perché noi dobbiamo cercare di far tornare i maiali mutanti! I maiali normali! Soprattutto i nostri cari amichetti che sono stati trasformati! Sarebbe questo punto interrogativo! Che non sappiamo! Probabilmente sarà o un'altra via di fuga! Oppure lì potremmo far tornare i nostri cari amichetti! I esseri umani! Ora però voglio parlarvi dell'uomo misterioso! Quello che compare nel trailer! In realtà ci sono tante teorie no? Che dicono è Rod! Joseph Sullivan che è resuscitato! Il figlio di Rod! Il figlio illegittimo di Sister Madeline! Però c'è una cosa che non abbiamo considerato! Se noi andiamo qua nelle impostazioni! E andiamo sul riconoscimento! Possiamo notare qua! Abbasato un po' il volume che forse è un po' troppo alto! Qui c'è la zona dedicata alle voci! Guardate qua ci sono le voci ad esempio di Rebecca! E qua è chiamata Rebecca Metheny! Lei ha mantenuto lo stesso cognome di Mr. Meat! Invece Susan e Michelle hanno cambiato cognome! Susan e Susan Miller! Michelle Miller! Nonostante anche lei sia una figlia di Mr. Meat! Ma andando sempre più giù! C'è questo Terry Martinez! Ma chi è questo Terry Martinez? Probabilmente questo qua è quell'uomo misterioso che ci offre appunto da bere! Perché gli altri lo sappiamo! Anthony, Dr. White, insomma li conosciamo! Terry Martinez è qualcuno di nuovo! E probabilmente è il nome di quell'uomo misterioso! Che infatti troviamo su Mr. Meat 2 a inizio video! Questo era il finale epico di Mr. Meat 2! Attraverso la porta principale c'è dell'altro ancora da vedere nei prossimi video! Quindi restate sintonizzati! Perché la serie di Mr. Meat 2 è appena iniziata! E ci saranno tanti altri nuovi video in arrivo! Il video finisce qua! Spero che questo video vi è ricevuto! Se vi è piaciuto vi racconto spalliciate! Così vedete iscritto al canale con la campanella attiva! L'avventura non finisce qua! Perché qui davanti a voi compariranno ben quattro schede con quattro serie differenti! Cliccate in una buona visione! E ci vediamo direttamente davanti a quelle serie! Ciao a tutti e buon parino a tutti!